Buongiorno, benvenuti tutti alla rassegna stampa di oggi, 13 febbraio. Che cosa c'è sui giornali? Ovviamente è presto detto perché tutto quello che riguarda la TAV, cioè l'analisi costi-benefici, fatta da quel genio, quel contafagioli, come si è definito lui, di Ponti, del professor Ponti. Vedete, oggi tutti parlano di questa analisi costi-benefici che dice che i costi per il sistema economico italiano per fare quest'alta velocità tra Torino e Lione, i costi sono 7 miliardi superiori ai benefici che questa ferrovia porterebbe. È un'analisi costi-benefici, come dice giustamente Maurizio Belpietro oggi sulla verità, non fake, ma è una di quelle minchiate, diciamo mostruose, sui quali noi ancora ci interroghiamo. Minchiate mostruose perché dice come se tu fai una commissione, dice Belpietro, per paradosso, sulla bontà dei vaccini e la affidi a quel boro, borione, burioni, come si chiama, a burioni. Bene, se tu fai un'analisi costi-benefici e la fai sulla TAV e ci metti dentro il professore che ne ha sempre parlato male, insieme ai suoi 4-5 uomini legati, non può che venire un'analisi costi-benefici totalmente negativa per questa ferrovia. Tra l'altro io vorrei sdrammatizzare con voi, chiunque di noi abbia studiato economia, bastava anche un anno non essersi laureato, sa che l'analisi costi-benefici di un'opera economica, ma come di tante altre cose, a parte che fa parte di questa specie di idea costruttivistica, cioè che noi a priori possiamo sapere quello che succederà nel futuro. Ma a parte questa minchiata, che già la dovrebbe rendere fragile, rendere fragili anche le sette analisi costi-benefici che invece dicevano esattamente il contrario, e cioè che le ferrovie sarebbero state utili a farle tra Torino e Lione. Quindi io contesto il sistema, perché tutte dipendono dagli obiettivi che ci si pone. Cioè se l'obiettivo dell'analisi costi-benefici, per esempio, fosse ridurre, come dovrebbero volere i grillozzi, il traffico, beh, ovviamente sarebbe presa in considerazione completamente in maniera diversa questa analisi fatta dal genio di Ponti, che mette la mancanza di pedaggi e di accise, ovviamente come un costo per il settore economico italiano, che lo è, perché Autostrada andrebbe a guadagnare di meno, grazie ai pedaggi che vengono in meno. Le pompe di benzina guadagnerebbero di meno, guadagnerebbero di meno anche lo Stato, perché incasserebbe meno tasse da questi camion che non viaggiano più su quella tratta autostradale. Insomma, io direi che voi, se avete qualche dubbio, dovete assolutamente leggervi sul mio sito l'intervento di Giordano Riello, che vi spiega perché un imprenditore considera importante quella tratta. Da un punto di vista economico e commerciale, quando Torninelli dice ma che ce ne frega di andare a Lione, lui ti spiega perché è importante per le nostre imprese andarne. L'altra grande questione fondamentale sottovalutata dall'analisi costi-benefici è che le merce attuali non passano lì, semplicemente, e anche questo bisognerebbe spiegherlo a quel genio di travaglio, che è meglio che si occupi di codici di procedura penale rispetto a politica estera e analisi costi-benefici dove non capisci assolutamente nulla, che ovviamente è spesso l'offerta che fa la domanda. Se tu mi metti a casa un giga di fibra, probabilmente io utilizzerò servizi che altrimenti non avrei neanche sognato. Se io faccio l'autostata del sole, probabilmente geni, passeranno le auto e ci saranno le auto che io non avevo neanche previsto si facessero. Se io faccio una galleria a norma che non faccia così e scenda così, a parte i risparmi, probabilmente quella sarà una dritta, una capacità di poter arrivare a portare merci in Francia, superiore a quelle che c'è oggi. Ma sono cose molto complicate. Per chi titola oggi, sentite, i dati bocciano la TAV. Quali dati? Ci sono sette analisi costi-benefici, se le vuoi prendere sul serio che dicevano esattamente l'opposto. Comunque i dati bocciano la TAV, il partito degli affari se la prende con i dati. Tra l'altro nel partito degli affari ci sarebbe evidentemente anche Salvini, che ieri, secondo tutti quanti i giornali, ha fatto capire che di questa analisi se ne fa un baffo. è fantastico Giorgio Meletti che mette CTAV, esattamente come avrebbero fatto i Novax o i terrapiattisti, cioè sono tutte operazioni fatte contro la scienza. Cioè se io voglio la ferrovia che va da Torino a Lione, ad alta velocità, è come se io non volessi vaccini, è come se io sostenessi che la terra è piatta, è tutto perché c'è un contofagioli che ha fatto, si è definito lui contofagioli, cioè Ponti che ha fatto una relazione che dice che non conviene economicamente, che non conviene economicamente contro sette relazioni che dicevano esattamente l'opposto. Vabbè, comunque andiamo avanti con questa storia. Tra l'altro nel pezzo di Travaglio oggi può dire tutto il contrario di tutto, ricordiamoci che Travaglio è quello che ha scritto Guaidò, il golpista appoggiato dagli Stati Uniti, cioè da una parte c'è un dottatore, dall'altra per giustificare i suoi amici Grillozzi, poi dite che c'era, non so, Minoli era Craxiano. Questo non è che è Grillozzo, non è Di Maiano, è una roba che neanche abbiamo visto negli anni passati, cioè Guaidò è un golpista e quelli dicono che è un golpista. Dice che non c'erano stati nessun blocco di opere pubbliche, che era un'invenzione, che invece con i Grillozzi tutto continuava, e dice che non era stato neanche fatto un buco, e che questa non portava persone, invece porta anche le persone sostanzialmente a questa alta velocità, beh, oggi riesce a dire che, vabbè, sì, hanno fatto un buchetto, un buchetto perché lo deve ammettere, il buchetto sono 7 km, caro Travaglio, e quel buchetto è costato molte centinaia di milioni, e quel buchetto non è un buchetto inutile, è un buchetto che comunque si sarebbe dovuto fare, bisognerebbe fare uno schemino a Travaglio, e anche a tanti che lo seguono dei Grillozzi, se tu fai una strada, ci sono anche gli svincoli, gli svincoli, soprattutto in un'autostrada, sono fondamentali, puoi fare un'autostrada senza svincoli? No, perché se no tu entri in questa autostrada e fai come fa Travaglio, cioè vai dritto avanti, dritto avanti, dritto avanti, non puoi mai uscire, stai come un cazzone là dentro, dritto avanti, dritto avanti, dritto avanti, quindi c'è lo svincolo, così si esce a Cuneo, da dove arrivano quelli col gozzo, no? Quello là, quella roba lì, vengono da là, quindi tu giri, giri, giri per lo svincolo, capito? Allora, se tu non fai una galleria per la sicurezza, che è lo svincolo di un'alta velocità, non fai l'alta velocità, quindi non è inutile quei 7 km, sono fondamentali, fondamentali i 7 km, questo, pertanto i vostri amici quando al bar dicono che non è stato fatto neanche un buco, un buco è stato fatto, bene o male che sia stato fatto, anche perché ne hanno fatte 7, 7 di analisi costi-benefici, e tutti e 7 hanno detto che c'erano più benefici di costi, tranne i contafagioli. Fantastico, l'altra cosa, i giornali oggi come interpretano questa cosa, perché ovviamente la mettono in un punto di vista politico e dicono che almeno fino alle europee non si potrà andare avanti, poi si vedrà dopo alle europee, quindi insomma sottoponiamo a valutazione politica quella che sono i dati che bocciano la TAV. Intervista Coppola, cioè uno dei 6 esperti che facevano parte della commissione di valutazione, che ha detto guardate io al metodo Ponti non ci sono stato, il metodo Ponti era un metodo del contafagioli che aveva fatto capire che non voleva fare la TAV, insomma lui non ha firmato questa relazione finale, gli altri 4 insieme a Ponti, come è stato documentato per rapporti di lavoro, di parentela, di amicizia, non so, di fidanzate, di commesse, di rapporti contro la TAV erano tutti legati. Nel frattempo, sempre a beneficio del fatto che non cambia nulla con questo governo, perché le opere non è che sono state bloccate da questo governo, ma nessuno le ha volute fare, vi segnalo il sole 24 ore di oggi, per la quale si sostiene, nel sole 24 ore di oggi, a buona ragione, che siano state... Eccolo qua, è il cretino, hanno fatto 7 analisi costi specifici e prepagato le tangenti, fantastico! Allora le tangenti, facciamo che le hanno pagate anche per la bretella autostradale di Sassuolo, le hanno già pagate, cazzone deficiente! Cioè, io quelli che scrivono, che hanno questa specie di pregiudizio, c'è sempre la tangente, c'è sempre la cosa negativa, sì, forse c'è stata una tangente, però sapete che c'è di nuovo, io la bretella di Sassuolo, dell'autostrada, la voglio, e pensare che Dall'Orco, un sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture, con Toninelli, dopo che è stata approvata il progetto, dopo che sono 27 anni, aspetti, quanti sono gli anni? Dopo 17 anni, 17 anni, che si parla di questa tangenziale, di questa, scusatemi, bretella, non siano, sia stata bloccata per un'analisi costi benefici di Dall'Orco, uno dice, se non altro, non potete dire che questi non stiano bloccando il paese, bloccando il paese, chiaro, bloccando il paese, la vogliamo fare questa bretella? Secondo me sì, in un paese normale le bretelle si fanno, si mettono, si mettono, mettiamo una bella bretella, togliamo le cinture e mettiamo le bretelle, ma facciamola, non possiamo, dopo 17 anni, ancora fare un'analisi costi benefici, perché ce la chiede Dall'Orco, nel frattempo, il giornale, diciamo, quello che parla delle tangenti, di voi, no, che fate queste, quel cretino di prima che diceva, noi abbiamo già pagato le tangenti, il giornale legalitario, che ce l'ha con le tangenti, che ce l'ha contro l'illegalità, che vuole un paese svizzero, in cui tutto va, per la maggiore, sapete quel giornale, questi cazzoni, che cosa mettono in prima pagina? La filosofa della sapienza, questa filosofa della sapienza, guardate, mi dispiace che non mi ricordo, si chiama Di Cesare, pensate un po' voi, che c'è qualcuno che studia con questa filosofa Di Cesare, sapete che cosa ha fatto questa signora filosofa della sapienza? Ha difeso e continua a difendere gli anarchici di Torino, che hanno messo a ferro e fuoco la città, perché gli hanno sgomberato, gli hanno sgomberato il centro sociale, senza motivo, dice la professoressa, hanno sgomberato il centro sociale senza motivo, e quindi io lo capisco che questi hanno fatto questa risposta, ah beh, ovvio, io sono contro la violenza, dice questo genio della filosofia, questa è una filosofa, questa forma persone che studiano filosofia, va bene? Ma viviamo in un'epoca autoritaria, un'epoca autoritaria, viviamo, cara signora filosofa, in un'epoca non autoritaria, in un'epoca normale, una professoressa che insegna filosofia all'università, e che dice, e che giustifica la violenza degli anarchici, va bene? viene presa, e per l'orecchio così, questa è una dipendente pubblica, questa la pago anch'io, chiaro? Come voi vi lamentate della RAI o della non RAI, la paghiamo anche noi, questa filosofa di Cesare, che mi spiega che gli anarchici, che buttano e mettono a fuoco una città, bene, li avete viste quelle immagini, beh, questa cazzo di situazione è accettabile, sapete perché? Perché viviamo in un'epoca autoritaria, con l'idea dell'epoca autoritaria, hanno sparato, cara professoressa, hanno sparato, e per l'idea di un'epoca autoritaria, in Francia tengono ancora dei nostri brigatisti, perché pensano che il nostro sia un processo, un sistema autoritario che li ha condannati, e che loro stavano veramente facendo una lotta contro l'illegalità dell'Italia degli anni 70-80, bene, io sto dall'altra parte, dalla parte dei professori, che non pensano che la professoressa di Cesare, possa dire una stronzata di questo tipo, e venga ospitata tra l'altro nel giornale legalitario, che dice sono pronte le mazzette, però è possibile prendere e buttare, e buttare una Molotov in una città, no? Beh, può essere tranquillo, reddito di cittadinanza, lo cita il Corriere della Sera, perché oggi in realtà si mette male, perché ci sono degli emendamenti della Lega, che vuole far sentire adesso il suo peso, e dice non riesco a capire perché al sud dai sgravi, under 35, eccetera, più il reddito di cittadinanza aumentato, quindi dice o l'uno o l'altro, e questo ovviamente fa andare in bestia, questi paletti che sono stati posti sul doppio sgravio, tra reddito di cittadinanza e assunzioni di under 35, il Movimento 5 Stelle, ve ne vedremo delle belle, vediamo che altro ci abbiamo di interessante oggi, beh, l'altra cosa interessante di oggi è, signori, scusatemi, fatte tutte queste premesse, è capito come io la penso su questo governo che non vuole fare la TAV, questo governo incredibile nel fatto di bloccare le opere importanti per questo paese, ma è accettabile che il nostro Presidente del Consiglio Conte, vada a Strasburgo, c'è Salvatore Merlo che parla della sua ridicola prolusione di un'ora, ma qualsiasi cosa egli abbia detto, è incredibile che si possa, Perostad, Presidente dei Liberali Olandesi, permettere di dare del burattino al nostro Presidente del Consiglio, ed è incredibile che Repubblica, Corriere della Sera, e tanti giornali che sono lì, godono e sono compiaciuti del fatto che noi si sia insultati da un inutile, Presidente di un inutile partito liberale di un inutile Olanda, terra di pirati, a cui io voglio anche bene, ma a parte il Rix Museum, e a parte le biciclette di Amsterdam, io non mi faccio dire da un parlamentare olandese che il Presidente del Consiglio Italiano è un burattino, non te lo fai dire, e un francese come Macron, l'ognomo, il genio di Macron, avrebbe già chiamato probabilmente l'ambasciatore italiano in Olanda, e gli avrebbe detto vieni qua, scusami, adesso torni qua in Italia, ma vi rendete conto? Ma noi stiamo qua ad accettare il fatto che possono dire che il nostro è stato eletto da un sistema parlamentare, in cui c'è una maggioranza del Movimento 5 Stelle della Lega, vi piaccia o non vi piaccia? Hanno nominato, e c'è stata tutta una procedura con il Presidente della Repubblica che ha preferito Conte ad altre soluzioni, e noi ci facciamo dire che è un burattino, io mi posso permettere, come giustamente fa Salvatore Merlo, di prenderlo in giro, di raccontare l'inutilità delle sue parole, ma l'idea che un altro Stato possa definire burattino un nostro Presidente del Consiglio mi sembra molto più grave del fatto che Di Maio vada a incontrare un gilet giallo in Francia. Ma noi zitti e buoni, il gilet giallo in Francia non lo poteva fare Di Maio, tutti scandalizzati, ma quando invece un leader politico, un liderino politico olandese ci tratta come se fossimo il paese dei balocchi, beh, insomma, tutti quei giornali zitti e buti. Ma io la trovo una cosa incredibile, ma incredibile, proprio perché a me questo governo non piace, penso che sia indignitoso non difendere il nostro Presidente del Consiglio. Sulla sconfitta del Movimento 5 Stelle ad Abruzzo, il pezzo più bello è quello di Gervasoni oggi, cioè la sindrome di Peter Pan, che qualcuno potrebbe dire governare, fare l'opposizione allo stesso tempo, ma la frase chiave del pezzo di Gervasoni oggi sul Messaggero è ancora vittime di un'esaltazione giacobina. secondo le indiscrizioni dei giornali mi sembra chiaro che ci sia un problema oggi di leadership di Di Maio, tutti i retroscenisti dicono che Casaleggio vorrebbe addirittura mettergli un vice, trovare una soluzione, beh, come però ha detto bene Gervasoni, l'innesto di Di Battista non sembra che abbia fatto granché bene. direi che per oggi è tutto, pezzo di Gervasoni bellissimo, bellissimo, non le minchiate, oggi c'è il solito deficiente, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere, pezzo bellissimo su Sanremo, sulle giurie popolari, sulle giurie dell'elite, citando Hayek, citando i grandi maestri del pensiero austriaco e liberale, insomma, leggetevi, perché la sinistra odia la democrazia scritto da Gervasoni sul sito nicolaporro.it Bene, ci vediamo più tardi, Laura si è collegata ora e la saluto e saluto tutti quanti voi. Ciao!